Ciao a tutti ragazzi, sono Chiara Campanile, studentessa del liceo scientifico Straniflau Canizzaro. Sono qui per proporvi la quarta edizione del concorso La Scuola che Vorrei, che rientra nell'ambito dell'educazione civica e mira ad insegnare agli studenti come vivere correttamente nella società, partendo dall'ambiente scolastico. La tematica di quest'anno è il cyberbullismo. Ogni concorrente dovrà cimentarsi nella creazione di un elaborato video di massima durata 1 minuto e 30, nel quale dovrà esporre almeno un'idea per combattere il fenomeno del cyberbullismo, a scuola o al di fuori. Questo al fine di migliorare la scuola in difesa e nel rispetto del prossimo, per il bene di noi stessi e della comunità. Questi video verranno valutati da una commissione esaminatrice, formata da 10 studenti e 3 docenti del liceo, la dirigente scolastica e un presidente. La commissione inoltre dividerà i seguenti criteri di comunicazione. Efficacia comunicativa Originalità dei contenuti Pertinenza al tema E abilità nella tecnica di creazione del contenuto Quest'ultima però sarà meno di rilevante. Infatti, varrà circa la metà dei punti rispetto alle altre. Questo perché a noi interessa il contenuto e l'impegno che ci mettete e non la qualità del video che potrebbe essere alterata da diversi fattori. Elaborata la protetoria finale, si formerà quindi una classifica. Infatti, i primi 10 classificati vinceranno come premio dei materiali di interesse ludico-didattico consultabili sul bando di concorso. Dall'undicesimo al ventesimo classificato sarà data l'opportunità di partecipare a delle giornate da liceale, mentre tutti i concorrenti saranno invitati ad un'open day che si svolgeranno durante i mesi di novembre e dicembre 2024 per l'iscrizione all'anno scolastico 2025-2026. Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il nostro sito web o a cliccare il link qui sotto in descrizione. Ragazzi, speriamo vi divertiate a fare i vostri contenuti. Vi aspettiamo i numerosi e che vinca il migliore! Grazie a tutti!